Ho citato una figura che ormai è abbastanza sdoganata anche in Italia, ma pur sempre un tabù, che è la psicologa dello sport. Conosco diversi atleti che però non lo dicono pubblicamente, che sono seguiti da una psicologa dello sport, che non è una motivatrice, è una persona che... Cosa fa la psicologa dello sport nel caso di un atleta? Molte cose, dipende. Può aiutarti a visualizzare la gara prima di farla, così facendo poi diventa un automatismo e non pensi neanche più alla gara, sai già quello che devi fare.